ma buongiorno siamo sempre qui e sono sempre qui soprattutto per farvi vedere come farvi il ritocco di colore a casa mi raccomando come abbiamo già detto non andate oltre al centimetro di ricrescita altrimenti causiamo danni ci siamo preparati inoltre per mandarvi il vostro colore direttamente a casa in maniera che una volta che ritornati negozio possiamo comunque darlo a sistemare e sapere cosa avete utilizzato altrimenti veramente sarà un gran casino allora ci muniamo di pettine la ciotola del pennello la trovate già nel kit qualora l'avete comprato e arriverà a casa vostra vi consiglio se avete colori scuri di mettere una crema molto molto nutriente o una cera nelle attaccature in maniera da non ungere troppo poi tiriamo verso l'indietro tutte le attaccature con il pennello andiamo ad appoggiare il colore solo ed esclusivamente nel primo centimetro di attaccatura con una separazione centrale con una riga centrale andiamo a fare la nostra bella riga dopodiché sempre con il pennello andiamo a spennellare solo il centimetro così procedo da una parte e dall'altra vi consiglio di fare solo dove avete l'apertura della riga l'attaccatura e un paio di righe posteriori in maniera che se si apre non si vedrà la ricrescita ultima ultima cosa quando sarà passato il tempo di posa quindi un 40 minuti andate a massaggiare molto bene l'attaccatura senza mettere mettere l'acqua e poi andate a risciacquare in abbondanza per qualsiasi informazione contattateci